ragazzi a me di criticare non va proprio non va proprio le abbiamo contenuti bene fino a buona parte del secondo tempo abbiamo anche avuto le nostre chance vedi quella di con kristovic non l'abbiamo sfruttata e ricordatevi contro le grandi squadre quando hai anche una sola occasione ma il lecce ne ha avute due tre una sola occasione la devi sfruttare altrimenti poi il gol signori lo prendi sempre lo prendi sempre è difficile che con una squadra come l'atalanta tu non prenda gol e però detto questo a me di criticare questo lecce non va siamo arrivati in emergenza qui a bergamo e abbiamo fatto la nostra figura e tutto sommato il primo tempo siamo andati abbastanza bene e c'era poco da da ridire contro questo lecce nel primo tempo nel secondo tempo siamo scesi un po più timidi ma ci sta ragazzi ci sta dai arrivare a bergamo senza tanti c'è con tanti assenti e giocarsela così con l'atalanta come nel primo tempo diciamo che non è da tutti e il lecce ci ha provato e non ce l'ha fatto ragazzi ne parliamo domani mattina con il video del giorno dopo io oggi non posso che ripetere forza lecce e ci hai fatto fare una bella figura a bergamo per la sconfitta non fa niente e ci rifaremo col Cagliari iscrizione e like grazie a domani